Anticipazioni uomini e donne, una coppia lascia il trono over.Fuoco e fiamme a uomini e donne La puntata del martedì del programma condotto da Maria De Filippi continuerà a mostrare le peripezie sentimentali delle dame e dei cavalieri del trono over Liti, incomprensioni e bugie saranno gli ingredienti del secondo appuntamento settimanale con il filone signor della trasmissione Oggi a uomini e donne ci sarà spazio però e anche per un lieto fine. Paolo Marzotto troverà finalmente l'amore L'ex di Gemma Galgani sarà pronto a lasciare il programma con Sabrina. Dopo la fine della sua frequentazione con la Galgani, il cavaliere leggerà una lettera d'amore alla sua nuova compagna e confesserà di essersi innamorato follemente e di voler vivere la sua nuova storia lontano dalle telecamere Sabrina, al centro dello studio del trono over, non mostrerà la sua felicità e abbraccerà Paolo, sotto gli occhi increduli di Gemma Galgani Gemma Galgani indecisa uomini e donne. Paolo Marzotto va via.Paolo Marzotto e Sabrina di Uomini e Donne saluteranno tutti nel trono over oggi, pronti a vivere la loro storia fuori dallo studio di Canale 5 La coppia ringrazierà Maria De Filippi per averli fatti incontrare. Un nuovo lieto fine nel dating show di Canale 5, che quest'anno ha visto anche una proposta di matrimonio nel trono over Nel frattempo Gemma Galgani continua ad avere una situazione sentimentale instabile, nonostante il ritorno di fiamma con Rocco Fredella Gemma avrà di dubbi sul cavaliere tanto da rifiutarlo ancora in alcune circostanze La Galgani continuerà a sottolineare di voler procedere gradualmente nella conoscenza con Fredella Come reagirà al lieto fine del suo ex? La damma nelle scorse settimane aveva avuto da ridire sulla storia tra Paolo e Sabrina La dichiarazione d'amore di oggi pomeriggio a Uomini e Donne convincerà anche Gemma Galgani Uomini e Donne, Pamela e Stefano lasciano il trono over. Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che Paolo Marzotto e Sabrina non saranno gli unici protagonisti della puntata Anche Pamela Barretta e Stefano pennelleranno l'appuntamento del martedì del trono over Il cavaliere svelerà che in settimana Riccardo Guarnieri avrebbe cercato la dama Tra Pamela e Stefano ci sarà un'accesa discussione e la donna lascerà il programma Stefano la raggiungerà dietro le quinte e cercherà di farle capire di essere interessato solo a lei Nonostante le rassicurazioni ricevute, Pamela continuerà ad essere sospettosa a causa dell'avvicinamento delle scorse settimane tra Roberta e Stefano Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like Grazie